Hanno ascoltato gli israeliani e i palestinesi, i russi e gli ucraini e tutti gli altri conflitti armati che dicono noi qui abbiamo il coraggio di essere amici, di tenere le relazioni. Chiediamo a tutti di fare la vostra parte e lo sport ha risposto sì, facciamo la nostra parte perché lo sport è il luogo dove si pratica quella cultura in cui siamo sia avversari ma nemici mai. Dalle istituzioni allo sport fino ad esponenti delle diverse comunità religiose ma anche la scuola e l'università unite nel riconoscere il valore educativo dello sport. Sono state infatti oltre 60 le persone che si sono riunite attorno al tavolo nella cittadella della pace di Arezzo accogliendo l'appello di rondine, sport for peace, avversari sì, nemici mai. Penso che lo sport sia un strumento abbastanza efficace per fare il dialogo e si può considerare come il mezzo per mettere le parti divise dovute dai conflitti insieme per avere questa gioia dello sport che ci dovrebbe unire. Dobbiamo diventare parte della soluzione perché oggi la pace richiede azioni concrete. L'occasione è la partita di calcio della Nazionale Unile per la quale rondine è stata chiamata a collaborare per preservare lo spirito agonistico positivo dello sport. Da qui l'invito alle istituzioni ad incontrarsi nel borgo di rondine per costruire iniziative che assicurino lo sport come naturale servizio alla pace. Immaginiamo che possa essere un percorso e un esempio per tutte le istituzioni. Oggi eravamo qua in tanti e adesso cercheremo a Udine di costruire ancora dei percorsi che mettono insieme la partecipazione, l'amore e lo sport. È stato un momento molto bello credo per tutti quanti noi sia ascoltare i giovani che sono qui sia tutti gli altri che hanno condiviso questo progetto di concretezza nel rispetto delle diversità, delle unicità gli uni degli altri per la pace utilizzando anche lo sport. La ragione dell'essere qui è il tema proprio di saper dare concretezza tra quello che è il conflitto che lascerà tutti noi e ci distrugge ogni giorno e qui saper dire noi però affermiamo il valore della convivenza. Qui è una realtà così neutrale dove uno si trova la sua dimensione religiosa, la sua dimensione anche umana e questo aiuterebbe tanti momenti di conflitto a prendere un esempio pratico, reale.